Scala, oggi è una partita difficile, cosa mi dici? È stata una partita difficile, sapevamo di venire qua e giocare contro degli avversari ostici, però abbiamo fatto un buon primo tempo, dove abbiamo dominato solo noi, loro hanno avuto un'occasione e basta, al secondo tempo sono entrato in meglio in campo loro e sono riuscito a trovare il pareggio, il risultato alla fine che ci può stare è giusto. Il primo tempo è una parata da portiere da Serie A, sai? Sì, hai salvato il risultato. È stata una bella parata, ho lavorato molto tutti questi anni, anche grazie al mister Barillaro, che è nella squadra vero prima e questa parata qui la dedico comunque a tutta la squadra e a questo pareggio che a Spezia male non fa. Ti ringrazio, come hai visto oggi la partita dell'Itè? Oggi la partita l'ho vista bene, entrambi da tutte e due le parti, ce la siamo giocata, è stata una grande partita intensa e adesso speriamo sia primo tempo che secondo, alla fine del pari, il risultato è giusto. Da parte di tua un bel primo tempo veramente, hai lottato come un lupo là davanti. Grazie, ho provato a dare tutto. Il massimo. Il massimo. Poi sei anche giovane. Che sia servito per la squadra. Complimenti a ogni modo. Speriamo le prossime di fare bene e dobbiamo fare bene. Grazie. Prego.